Buonasera, ringrazio dell'invito il Presidente della Fondazione Segni Nuovi e saluto il Sindaco di Verona Tommasi e tutti i presenti. Mi fa piacere essere con voi, anche se in forma virtuale, a questo dodicesimo Festival della Dottrina Sociale della Chiesa. Stiamo attraversando non solo in Italia o in Europa, ma a livello globale è un'epoca di straordinaria incertezza, cominciata con lo scoppio della pandemia due anni fa e che oggi prosegue con la guerra, con l'aggressione russa in Ucraina. L'incertezza oggi è per certi versi perfino più alta di quanto non fosse all'inizio della pandemia. Allora in fondo si trattava di congelare le nostre economie e di sostenere i lavoratori e le imprese durante quella fase critica, fino a quando il miglioramento della situazione sanitaria non consentisse di allentare le restrizioni. Oggi ci troviamo di fronte a molte più incognite. La guerra in Ucraina, i prezzi e le scorte di energia, l'inflazione, i tassi di interesse più alti, le catene di approvvigionamento globali, solo per citare alcune delle questioni più importanti. La difficoltà di prevedere l'evoluzione di tutte queste variabili è la causa della grande incertezza attuale, che pesa come un macigno sulle prospettive di crescita, perché l'incertezza danneggia la fiducia, riduce i consumi, rallenta le assunzioni e frena gli investimenti. Insomma, possiamo dire che l'incertezza è il nemico principale della fiducia. E c'è da dire che noi italiani con la fiducia abbiamo un rapporto particolare. Da una parte c'è una grande fiducia in noi stessi, nelle famiglie, nei nostri campanili, nelle nostre culture. Dall'altro abbiamo meno fiducia, storicamente, nelle nostre istituzioni centrali. Per secoli abbiamo coltivato più l'autonomia dei territori che l'immedesimazione nelle istituzioni centrali. È un aspetto su cui gli ultimi tre Presidenti della Repubblica, Carlo Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, hanno spinto moltissimo. Nel suo discorso di Capodanno del 2003, il Presidente Ciampi diceva «La fiducia è tutto, è la forza che ci muove, che ci permette di costruire il futuro». Oggi, aggiungeva allora Ciampi, non cresciamo in Italia e in Europa soprattutto perché manca la fiducia e invece non mancherebbero le ragioni di nutrire fiducia. Questa operazione di costruzione di una fiducia più forte va fatta dunque in tempi di inaudita incertezza e in un Paese non sempre propenso a conferirla per così dire in automatico alle proprie istituzioni. Vediamo allora alcuni spunti di questo percorso di costruzione di una più forte fiducia per come io li vedo. Innanzitutto, ovviamente, è fondamentale rilanciare l'economia. Se non si torna a crescere, manca la base per migliorare le nostre società e quindi dobbiamo sostenere le nostre economie, aiutarle a superare questa fase difficile, ma abbiamo bisogno di un sostegno intelligente, diverso da quello dell'epoca Covid, più mirato verso i più deboli e più lungimirante. La vera sfida è tornare alla crescita, ma trasformando le nostre economie, puntando sull'innovazione digitale, sulla resilienza sociale e soprattutto sulla transizione verde, altro grande motore di fiducia. I nostri concittadini devono avere la consapevolezza che di fronte alla più grande minaccia e sfida di questo secolo si lavora, si lavora insieme, si collabora a livello internazionale, si fanno tutti gli sforzi possibili, un po' come si è fatto per i vaccini durante la pandemia. Costruire la fiducia vuol dire anche proteggere, far sì che cittadini europei e italiani si sentano protetti, perché il disagio sociale, un disagio che era già in mezzo a noi dopo anni di bassa crescita economica e di aumento delle diseguaglianze, e che la pandemia ha accentuato per certi aspetti, il disagio sociale rischia di crescere ulteriormente in questa fase delicata. Mitigare l'impatto di questa crisi sul piano sociale è dunque una componente essenziale per tornare a ragionare in termini di fiducia. E dobbiamo combattere anche un altro fattore di disagio sociale, la solitudine. La solitudine che per certi versi è la sfida inedita di questo secolo. Negli ultimi anni alcuni governi, penso al Regno Unito, al Giappone, hanno addirittura istituito la carica di un ministro per il contrasto alla solitudine, un fenomeno emerso in maniera ancora più evidente durante la pandemia. Se le persone sole diventano sempre più numerose e non c'è una politica rivolta a questo problema, è difficile ricostruire fiducia e sviluppo economico. Occorre dunque lavorare per rafforzare la coesione, la partecipazione, la comunità e quindi l'importanza dell'incontro, l'altra parola chiave di questo festival, e a seguire l'importanza della politica. La faziosità, le falsità, la polarizzazione, l'impossibilità del compromesso, a cui ci spingono la cattiva politica e alcuni potenti algoritmi, devono essere sconfitti. Per costruire fiducia serve una politica declinata nel senso di confronto, dialogo, apertura al futuro, di bene comune, di competenza, di sobrietà. Per questo anche il Santo Padre, nell'encicla Fratelli Tutti, ha scritto parole importanti. Infine, l'architrave della costruzione della fiducia non può che essere l'Europa. Un'Europa che negli ultimi due anni e mezzo ha fatto molta strada. Per molti era una arcigna guardiana dei decimali ed è tornata a essere una grande casa comune. Con il programma Next Generation EU ha fatto un debito europeo comune per conseguire obiettivi comuni europei. Un'occasione straordinaria che ciascun paese deve cogliere, portando avanti il proprio PNRR, primo fra tutti l'Italia, che di questa iniziativa è una grande beneficiaria. L'Europa ha poi preso la leadership della transizione verde, alzando l'asticella delle ambizioni durante la pandemia e accelerando ulteriormente, anche in questi mesi, la riduzione dei combustibili fossili russi nel proprio mix energetico. E infine l'Europa che è anche fiaccola di pace, di libertà, di democrazia e che si è schierata in maniera chiara e decisa fin dal primo giorno a fianco del popolo ucraino proprio a difesa di questi valori. Insomma, riassumendo, crescita economica, sostenibilità, inclusione, buona politica, Europa. Questi sono, a mio avviso, gli ingredienti principali di un percorso volto a costruire fiducia. Ingredienti che non possono prescindere dall'incontro, dall'attenzione verso l'altro, dalla ricerca di soluzioni condivise. e questo è qualcosa su cui possiamo, anzi direi, dobbiamo, lavorare tutti, ognuno, secondo le proprie responsabilità. C'è bisogno di fiducia, c'è bisogno di ottimismo, c'è bisogno di speranza. E fatemi concludere con una citazione di Don Adriano Vincenzi, che so essere molto caro, alla città di Verona e a questo festival. La speranza ha una dimensione sociale ed è questa, il futuro che la persona riesce a trasmettere con le proprie azioni. Vi ringrazio. Grazie.